Sono voci che stanno correndo in città, noi ce ne siamo fatti un po' portatori delle preoccupazioni. Il sindaco non ha smentito, lo avete sentito tutti, non ha smentito su questa eventuale possibilità. Purtroppo è una possibilità che ha offerto lui stesso approvando il regolamento urbanista nel 2014. Noi sapete la nostra battaglia che abbiamo fatto contro l'area commerciale in quell'area lì perché riteniamo uno svuotamento e una desertificazione del centro storico sarebbe un colpo davvero mortale all'economia cittadina.